Il consiglio di amministrazione di Dell? Francamente se ne infischia, come Clark Gable in via col vento. Parole amare, quelle di Carl Icahn, azionista del colosso americano, da tempo impegnato in una sfida alla mezzogiorno di fuoco, stavolta la citazione cinematografica è nostra, contro Michael Dell. L'obiettivo era impedire al fondatore dell'azienda di portare avanti il suo piano di riacquisto, a causa di un'offerta, a dire di Icahn, troppo bassa. Per guadagnare tempo e costringere Dell ad alzare ancora la posta, l'uomo aveva sostenuto l'illegalità dell'assemblea straordinaria, convocata il 12 settembre per il voto, ma il CDA ha detto no, la data non è troppo attaccata a quella dell'assemblea annuale, si proceda. Per questo Icahn ha alzato bandiera bianca, dicendo in una lettera che, pur essendo ancora contrario, non proverà più a bloccare l'operazione.